Mi consentite, vorrei qui ricollegarmi al ringraziamento per il Presidente Mattarella perché una delle cose che più mi ha dolorato nei giorni scorsi è stato quando c'è stato un attacco alla memoria di un suo congiunto sui social, adesso non ricordo esattamente, e su questo è stata una cosa che mi è dispiaciuta. Grazie. Noi stiamo cercando di piegarla e noi dobbiamo dire grazie alla fermezza e alla saggezza del Presidente Mattarella. Signor Presidente del Consiglio, si chiamava Pier Santi. Per chi si chiamava Pier Santi. Per chi? Grazie. 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 Grazie.